Buongiorno a tutti, oggi è l'otto e volevo fare un brevissimo update con voi della coperta annuale che stiamo realizzando. Allora, io ho già fatto l'ottava riga di questa giornata, come vedete dietro fa questo effetto un po' 3D e da questa parte è sempre in 3D ma più uniforme. Io preferirò questa parte qua, quindi più uniforme e quindi quando andrò a fare nei prossimi mesi dei punti che avranno un dritto e un rovescio, perché in questo caso è bello sia il dritto che il rovescio oggettivamente, però ci sono dei punti che hanno proprio un dritto e un rovescio, quindi non è che si può scegliere. A questo punto dobbiamo scegliere a quale parte dare priorità della coperta. Io sceglierò questa parte ma ovviamente se voi preferite la parte con la scala natura, semplicemente partite con il dritto del prossimo punto da questo lato. Io invece partirò da questo lato. Comunque, appunto, volevo fare un brevissimo video di update, innanzitutto per dervi questa cosa che intanto vi fate un'idea di quale parte vi piacerebbe di più, perché anche io ho avuto i miei dubbi per parecchio tempo e poi volevo mostrarvi un po' come sta procedendo la sfumatura. Allora, devo dire che di questo filato adoro la sfumatura, io amo i filati sfumati in generale, però questo qua veramente mi piace molto, a parte che è facilissimo di lavorare, si lavora benissimo, ma poi ha delle sfumature proprio, sembra quasi fatto apposta per le coperte, perché si muovono durante la lavorazione, ma non tanto, quindi comunque ti sembra di avere sempre una riga sempre di colore diverso, ma in realtà se uno guarda attentamente, già in mezzo alla riga ci sono dei cambiamenti di colore, ma sono talmente delicati che veramente, anche qua vedete, passa da uno più chiaro a uno più scuro, è veramente bello. L'unica cosa che non mi fa impazzire, però visto che ha già ripreso con un colore grigio che tra pochissime maglie sarà già rosa, è che c'è stato un lungo lungo pezzo bianco. Allora, ci sta perché comunque dà un po' di contrasto e dà un po' anche di struttura alla texture, però me la immaginavo un po' più corta, nel senso di fare tipo dei frammenti bianchi, magari anche lunghi, ma non che durassero proprio tutta tutta la riga. È anche vero che già qua non è che iniziano proprio dall'inizio, inizia più o meno da un quarto, più o meno da qua, poi c'è una lunghissima serie tutta bianca. Però devo dire che nel complesso mi piace molto, mi piace molto come sta avvenendo la sfumatura. Insomma, questo era semplicemente un update per farvi vedere come sta avvenendo. Se volete mandarmi anche delle foto di come sta avvenendo la vostra, potete mandarmela nei commenti. Insomma, ditemi come sta procedendo il vostro lavoro. Tra l'altro mi piace di aver scelto questo tipo di punto per iniziare, perché vedete, una volta arrotolate, io ad esempio ho una cesta dove metto le coperte, una volta arrotolate, questo punto iniziale dà proprio un bellissimo giro. È proprio molto estetico. Quindi sono contenta di aver scelto questo punto un po' più strutturato per iniziare, per fare l'inizio. Probabilmente ne farò uno, non uguale ovviamente, però sempre abbastanza strutturato anche per la fine, in modo che da entrambi i lati la metta abbia questo effetto molto molto carino. Niente, era un brevissimo video. Ne farò probabilmente un altro a metà mese, per appunto verificare come sta procedendo. Grazie, fatemi sapere se vi è piaciuto e mi raccomando vi lascio il link in descrizione del progetto intero della coperta, quindi una piccola introduzione a quello che è il progetto che ci accompagnerà tutto il 2024, così potete farvi un'idea e eventualmente imbarcarvi in questo progetto con me. Spero veramente che saremo in tanti, perché questo appunto mi sprona a portare avanti il progetto, perché come ho dicevo l'altra volta, io ho i progetti lunghi e faccio sempre molto fatica a portarli termine. Invece ho voluto condividere con voi questo progetto proprio per, tra virgolette, obbligarmi a finirlo. Spero che vi stia piacendo e niente, alla prossima, ciao!